Un cordiale saluto ben trovati da Tu per Tu, ci troviamo con Claudio Cia, consigliere provinciale di Fratelli d'Italia. Ben arrivato consigliere Cia. Buongiorno. In discussione il consiglio provinciale, la manovra di bilancio della provincia, una manovra che le opposizioni in consiglio hanno definito senza prospettive e senza idee. Mancano le riforme, dicono le forze di opposizione, convinto della manovra invece il presidente Fugatti, convinti gli assessori perché è una manovra che invece secondo l'esecutivo provinciale dà risposte ai bisogni delle famiglie e soprattutto anche alle imprese in questo momento importante per il rilancio dell'economia. Ma che sia una manovra che senza prospettiva mi sembra ingeneroso come affermazione per il semplice fatto che anzi direi che apre notevoli opportunità soprattutto alle famiglie. Vorrei ricordare che ad esempio proprio per andare incontro alle famiglie, quelle che dovrebbero costituirsi nuove, la provincia mette a disposizione 30.000 euro per ogni famiglia che si costituisse, quindi per agevolare i giovani a fare famiglia e di questi 30.000 euro quindi ci vengono abbonati al primo figlio e il secondo figlio fa abbonare l'intero importo. Quindi direi che è un'attenzione importante per le famiglie. Poi certo non si riesce a dare risposte a tutte le richieste perché dobbiamo essere anche realisti. Noi abbiamo un bilancio per il Trentino che è di 4 miliardi e mezzo circa, 1 miliardo e 300 milioni sono impiegati per la sanità che sappiamo essere il capitolo più importante e quello più oneroso. Dopo tutti gli altri soldi che rimangono a disposizione ovviamente vengono distribuiti sulle varie necessità. Io vorrei anche ricordare che la provincia ha rinunciato a toccare quindi a aumentare l'IRAP proprio per andare incontro alle aziende che vorrei ricordare che le aziende sono le più penalizzate per la crisi economica derivante dalla crisi sanitaria. Sono le più penalizzate proprio per questo la provincia ha ritenuto dilassiare nelle tasche delle aziende perché vengono investite in assunzioni 70 milioni di euro. La provincia di Bolzano che può contare di un miliardo e 700 milioni in più rispetto al bilancio della provincia di Trento, ad esempio l'IRAP l'ha aumentato? Quindi dunque pieni voti diciamo alla manovra del presidente Fugatti, consigliere CIA. Noi intanto andiamo avanti, parliamo di un altro argomento di grande attualità purtroppo, la carenza di personale medico, infermieristico e comunque anche di altre figure professionali del settore. E vuoi perché appunto è una carenza ormai cronica che si trascina da tempo ma poi diciamo l'emergenza sanitaria ha dato diciamo il colpo finale alla situazione. Ecco, come si può uscirne? Come si può uscirne? Innanzitutto bisognerebbe poter togliere il numero chiuso nell'accesso a questa professione e quindi consentire ai giovani di poter accedere all'università. Seconda cosa, bisognerebbe anche garantire un riconoscimento economico diverso perché vorrei ricordare che oggi un infermiere guadagna quanto un commesso di un poli. Con la differenza che ci sono delle responsabilità estremamente più importanti a fare l'infermiere in qualunque reparto. Si pensi ad esempio quelli della rianimazione, si pensi quelli del pronto soccorso, ma un po' tutti in reparti perché poi infermieri sono chiamati a prestare la loro opera ovviamente dimostrando competenza. Ecco, sicuramente questo è un limite e poi c'è anche da dire che oggi la crisi sanitaria ha spaventato anche molti nell'accedere a questa professione. Perché? Perché è una professione che comporta anche i rischi. Io vorrei ricordare che abbiamo avuto diversi infermieri che sono morti proprio nel prestare la loro opera, infermieri che hanno dovuto rinunciare per settimane ad avvicinarsi alla propria famiglia per non creare problemi di contagio proprio alla stessa famiglia. Quindi sicuramente è una professione che meriterebbe molta più attenzione e maggior riconoscimento. Certo, non posso incolpare l'assessore di questo perché vorrei ricordare che il problema anche qui è piuttosto cronico e ha radici molto molto profonde. Infine direi di fare un passaggio sulle vaccinazioni. Abbiamo visto si è conclusa la maratona vaccinale, non ci sono stati numeri che si attendevano però dobbiamo sempre dire consigliere Cia che è importante vaccinarsi. Bisogna distinguere vaccino da tampone. Il vaccino ha il compito di stimolare il sistema immunitario a produrre difese e quindi di fare prevenzione. Possibilmente la prevenzione dovrebbe evitare che il soggetto si ammali e laddove si ammali i sintomi siano estremamente più contenuti. Per quanto riguarda invece il tampone, il tampone ha l'obiettivo di far diagnosi, cioè di rilevare la presenza del virus. Va anche detto che chi è vaccinato non è che si possa dire sicuro di non essere in grado di trasmettere il virus perché il vaccino non ha lo scopo di evitare il contagio ma, come dicevo prima, ha lo scopo di prevenire la malattia o comunque di contenerla. Io credo che la campagna vaccinale intrapresa dalla giunta provinciale è sicuramente lodevole per gli sforzi e anche per gli obiettivi. Certo ci si aspettava 100.000 vaccinati invece di 70.000 certamente quei 70.000 sarebbero mancati se non fosse stata fatta questa campagna. Quindi anche chi quando sento attaccare la giunta perché non si sono raggiunti 100.000 vaccinati insomma mi sembra veramente diciamo discorsi di bassa lega insomma. Grazie alla consigliere provinciale di Fratelli d'Italia Claudio Cia, grazie di essere stato con noi. Per A Tu per Tu per questa puntata è tutto, vi do appuntamento ad una prossima puntata. Arrivederci. Grazie a tutti.